Siamo davanti a una cosa imprevista, a una cosa mai vista. Delle forze politiche chiare si sono assunte le responsabilità davanti al Paese, davanti alle forze economiche, alle famiglie, alle persone più disagiate, di far cadere il governo Draghi. In un momento così delicato per la nostra nazione. È un fatto gravissimo, è un fatto inaudito, incomprensibile, se non nella logica dei giochini partitici, cioè nella logica di guadagnare due o tre voti in più nelle prossime elezioni. a spese del Paese. Non nasconde il suo sdegno verso quanto accaduto il senatore veneziano del PD Ferrazzi, all'indomani delle dimissioni di Mario Draghi, dello scioglimento delle Camere e dell'annuncio al voto il 25 settembre. Adesso serviva stabilità, bisognava aspettare sei mesi per consentire al governo Draghi di fare quelle riforme, di portare a casa i miliardi dell'Europa. Ma lei sa che se il decreto legge concorrenza non diventerà norma legge. Noi perdiamo 19 miliardi di euro del PNRR che erano soldi che andavano i nostri sindaci per la rigenerazione urbana, andavano all'incentivazione dell'economia, soldi per il mondo del lavoro, soldi per la povera gente, soldi per aiutare il mondo delle imprese. Tutto questo rischiamo di perdere per la responsabilità della Lega di Forza Italia e dei 5 Stelle. I tempi sono stretti e bisognerà scegliere dei candidati che siano in grado di dimostrare fiducia agli italiani, una fiducia che hanno perso da tempo. Gli italiani sono incazzati, giustamente, sono increduli rispetto allo spettacolino indegno che io purtroppo ho dovuto vivere e subire direttamente al Senato due giorni fa. Sono increduli perché mentre non riescono ad arrivare alla fine del mese, mentre le imprese non sanno come portare avanti le attività economiche, mentre i sindaci fanno di tutto per tenere vive le loro città, alcuni per giochini politici ci hanno messo di tutto in questa condizione. Gli italiani sono arrabbiati, giustamente, però noi dobbiamo confluire questa energia in forza, in proposta.